ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale con un nuovo video e quello di oggi come potete vedere è una demo in particolare andremo a provare il videogioco residence of evil vigil è una demo in cui praticamente andremo a vedere alcune location di questo gioco e i nemici anche i nemici dovrebbero esserci in particolare velocemente vi spiego un po che cos'è praticamente un progetto fatto da degli sviluppatori indipendenti molto fan un gioco molto fan made su resident evil ecco e comunque non dico che sia tipo un resident evil però assicura resident evil è una saga che ha sicuramente influito tanto sulla decisione degli sviluppatori su questo gioco non so quante volte ha detto resident evil però mi avete capito e niente io seguivo il progetto già da abbastanza diciamo in descrizione vi metterò tutti i link comunque disponibili patreon il link al canale e perché comunque nascono come un canale youtube dove fanno tanti video interessanti seppur in inglese su resident evil e insomma sulla lore in particolare del gioco e su tutto quello che li circonda ecco ma a bando le ciance iniziamo subito voilà allora è una blind anche per me quindi intanto vediamo un po di muovermi cercare di capire i movimenti in teori dovrei muovermi anche col pad io avevo letto soltanto con la tastiera però no praticamente così fa con l'analogico non si gira neanche no il pad non è supportato mi sa ok ok niente andiamo con mouse e tastiera cercando di capire come aspettate a cosa ho premuto ah con la q si apre l'inventario beh wazda ci va avanti ciccia cosa ho fatto ah ho mirato ok lo so che dovevo leggermi il redmi vedete che sono scema ah sono solo andata avanti e vabbè ciao ciao ne proprio e l'apertura delle porte è proprio come resident evil a destra abbiamo una doppia porta molto interessante scale che sono le stesse che si vedevano nell'anteprima telecamera fissa roba molto bella qua c'è un orologio come faccio a esaminare le cose sentite che belle le host si ma se io non so come esaminare con shift forse no ah con e ok con e si entra poco ispirati mi dicono cos'è che ho preso delle munizioni mi sa dai ma ci sente anche il rumore dell'orologio c'è il camino vediamo se esamino no beh comunque con la e apro le porte questo l'ho capito ma ci mancava la porta lì che mi andava a incontrare il nostro primo zombie ecco però non mi fa esaminare niente sembra strano ok qua c'è un corridoio semi distrutto vediamo il nostro protagonista e bionda ok adesso eh infatti ecco qua le munizioni io non posso tipo esaminare le cose boh vabbè è chiusa una cucina vabbè che ricordiamoci che comunque è una demo dimostrativa proprio per far vedere le location munizioni per far vedere le location e per far vedere insomma un po' il gioco come si sta sviluppando ecco sta venendo sviluppato cosa è successo da qualche parte si è sentito vetri rumore di vetri rotti questa porta è chiusa mi sa cioè qualcosa mi lascia intendere che sia chiusa boh proviamo ad andare di là c'è inciso una luna il simbolo della luna ok quindi avremmo le incisioni un po' come ecco cos'è stato il rumore il corvo il povero corvo e avremmo quindi le incisioni come come classici residentivole ecco vediamo se qua c'è qualcosa no non mi fa andare c'è una ma che paura dio santo ragazzi mi sono cagata addosso non mi fai niente vero corvetto dovevo aspettare una roba così sinceramente però sono stata scema ok adesso che ho capito che con E interagisco vediamo qua il camino no le armature no spero che mettano il supporto anche per il pad andando avanti perché non è il massimo della comodità giocare con la tastiera molto bella l'idea di mettere questa host in questa stanza dove c'è il pianoforte che oddio che è proprio appunto una melodia suonata a pianoforte è chiusa dall'altra parte qua non c'è niente perché ho la sensazione che appena passo di lì no non succede niente ho paura che succedesse qualcosa vabbè via adesso non ci rimane che salire le scale c'è solo una porta sì vediamo sapete che non ho idea di come si spari penso con il tasto del mouse mi dà fastidio che ogni tanto si ferma e alza la mano balconata con le salattiti non ci vede altro vabbè torniamo dentro allora vedo dove siamo arrivati no no siamo arrivati da qua perché mi ricordo qua la foto di sta tipa quindi abbiamo una una porta a destra e una a sinistra andiamo a destra mi dà fastidio mi dà fastidio però che fa così non ne vedo il motivo che si ferma e alza il pugno vabbè uno studio uno studio c'è qualcuno ragazzi di qua come si spara aiuto non so come si spara ma porca ma come cacchio si spara cosa sta non c'è non c'è non c'è non c'è posso fare come si spara non si scusate si dovrebbe sparare col mouse stupendo allora Allora, io divento scemo, non ce la posso fare, allora, aspettate, ho buttato le munizioni, ma non aprire la porta, allora, no. No, reminder, apri la porta anche se è girata di spalle, allora, come si spara? Con la barra spaziatrice, ok, ecco, una cosa che avevo letto, perché l'ho letto il file redmi, solo che non mi ricordo alcune cose, ecco, allora, praticamente, se ricarichiamo e abbiamo delle munizioni caricate nell'arma, quelle rimaste vengono perse. Lo sto prendendo. Ok, no, scusate, però mi ha fatto ridere la cosa. Ok, lui è stato fermo, scusate, ma mi ha fatto molto ridere. Ok, sono abbastanza resistenti. Ecco, questa è una cosa che devono sistemare, cioè, devono, no, magari, che diventi come gli ultimi. E giù, guardate che brutto che è. Spero non riesca a salire le scale. Ok. Oh, abbiamo preso la chiave luna. Questa cosa che va? Non c'è niente che puoi fare per aprire questa porta, perché probabilmente mi sa che metteranno... non c'è il tipo, no, mi sa che metteranno quella porta accessibile. Ah, mi sta aspettando qua, che carino. Eh, però non posso fare niente adesso, quindi, aspetta. Ok. Via, via, via. Magari lo faccio spostare, secondo me si sposta. Sfengo da queste parti. Re, fa, la, si. Ah, è questo. Re, fa, la, e si, sono evidenziate. Andiamo nella stanza col pianoforte, di nuovo. Ok. C'era un'altra porta qua, tra l'altro, che potevamo esplorare. Io non ho neanche esaminato il pianoforte. Dov'era? Giù, mi sembra. Eh... Dai, 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 sì, è qua. Eh, mi ricordo. Sì, allora, re... Ehm, fa... Ok. The Music Key. C'era lo spartito qua e non me l'ha fatto prendere. Cioè, me l'ha fatto esaminare. Sì. Anche se in realtà non c'è niente. Ecco, questa è un'altra cosa che devono fissare. Ehm... È chiusa dall'altra parte. Ora, se non ricordo male, la chiave luna era qua sotto, la porta. Mi sembra di sì. Andiamo a vedere. Magari andiamo a vedere come si devono utilizzare le chiavi e tutte queste robette così. Comunque, togliendo questi piccoli difettucci che comunque il gioco ha a livello tecnico, ma ripeto comunque che dovete vedere questa demo come una demo per far vedere come stanno sviluppando il gioco. Spero che comunque andando avanti e soprattutto a versione a gioco finito, risolvano questi problemucci, ecco. Ah, me l'ha aperta direttamente. Siamo fuori. Allora... Perfetto. Ok, i nemici hanno anche un range d'azione. Quindi oltre quel range non si avvicinano, non si spostano. C'è uno slot aperto. E la statua. Ok, quindi nella statua dobbiamo metterci qualcosa, tipo la batteria, no? Verbero Resident Evil 3. Questa porta è finta nella demo, ok? No, non è finta, è arrivato in ritardo il messaggio. Ah no, è chiusa, forse c'è un modo per aprirlo, forse la statua. Sì, probabilmente sì, però per il momento noi non abbiamo cosa mettere, quindi, nella statua. Ok, ricordiamoci che al piano terra, fuori, c'è qualcosa da mettere nella statua. Sono facilmente schivabili, comunque, perché sono degli zombie che tirano solo manate e non altro. Blue gem! Ciao. Che ci vada la blue gem nella statua? Proviamo a vedere. E entro ed esco perché almeno mi ripristino la posizione dello zombie. Mamma mia, che paura! Sono scappata proprio come... Via, 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 via! Stava entrando sto giro. Non mi piace quello là? Non mi piace quello là? No. Non dovevo usare la gemma. Allora. Aia! No, scherzo, aia, niente, non mi ha preso. No. Allora, adesso proviamo ad andare su e, visto che ho le munizioni, magari riesco a far fuori quel tipo là. E riesco a scendere le scale, che c'è qualcosa che, magari, mi permette con la gemma. Allora. Cioè, mi permette di usare la gemma, mi permette con la gemma, solo io lo so quello che significa. Allora. Eravamo così. E poi dobbiamo ricordarci di andare dall'altra parte. Intanto esploriamo qua. Una roba alla volta, perché se no ci incasiniamo. Ancora? Ma quanta resistenza ha sto qua? Eh, che furbo! Noi. Utilizziamo le tattiche che abbiamo imparato in tutti questi anni di Resident Evil. Dov'è il tipo di qua? Vabbè. È lì! È lì, porca miseria! È lì! Tipa, corri, tipa! Non so neanche come si chiama, è brutto non sapere come si chiama. La stanza del cervo. Non mi succede niente di mortale come in... Vabbè, Resident Evil 1 non succede niente di mortale quando prendi la gemma. Ti si chiude solo la porta e basta. Ok. Abbiamo preso due gemme. Ok. Però secondo me c'era qualcos'altro da esplorare di là. Proviamo. Io ho una paura matta che quei lupi si sveglino. No, ma non succede, non succede. C'è il nostro amico Fritz. Sembra che può essere aperto, ma come? Con le gemme. Qua ce ne va un'altra. Dov'è lo zombie? Allora, proviamo a vedere se tipo i quadri sono qualche indizio su dove abbiamo preso le gemme. No, non lo sono. Andiamo a vedere l'altra stanza, quella che devo ancora aprire. Allora, uno è bloccato lì. Che è sempre solito, no? Sì. Saliamo su. Ma scusa, ma ritorno non è in vita. Ok che siete zombie, però... Cioè, un attimo di calma. Quello è là, quindi in teoria riesco... Mamma mia, che ansia. Allora. Andiamo nell'altra parte. Che magari... Era chiusa. Ma con quale chiave? La chiave del piano o la chiave della luna? Una camera da letto. Spero che comunque mettano dei file. Mettono, insomma, tutte ste robette belle che piacciono a noi. A noi fan. Di questi giochi belli. Vediamo com'è. Ha un bel trucco pesante. Carina. Allora. No, 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 no. Scherzavo, 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 scherzavo. Le fai le scale? Le fa, le fa, le fa, le fa. Le fa. Anch'io però le faccio, però sono più veloci. Allora Lo facciamo fadere ma Non c'ho voglia di scappare da me No Ok Almeno solo da questo C'è una scacchiera Scarpe rosse Vestiti Un letto e niente C'è Lei che scivola sul pavimento Molto bella Questa sono gli zombie che tirano pugni E non degli zombie che mortano Cioè a me sembrano zombie Poi non voglio No da qua da dove veniamo Poi non voglio magari confonderli Però mi sembra ci sia ben poco da confondere Gemma Perfetto Andiamo Adesso mi devo ricordare dove era Allora era su E poi si è scesi giù Sì Ok Però volendo ci posso andare anche dalla stanza del pianoforte Però siamo su Ma chi è questa adesso? Dove è venuta fuori? Ma vai Ma dai Beh almeno Abbiamo già visto tre varietà di nemici Cioè di design Degli zombie E già questa non è una brutta cosa Vuol dire che comunque su questa cosa ci stanno lavorando Sul design degli zombie ecco Adesso spero che lavorino anche in tutte le altre cose Un po' da sistemare E poi Direi che stanno già facendo un buon lavoro Aspettiamo Lo aspetto perché Se ancora metà strada poi gira e Corre sto zombie Disgraziato Ok Quello è là giù Quindi va benissimo Rimane pure lì Era questa la strada no? Sì Lo trovate anche abbastanza velocemente E' giusto l'ordine Cioè beh Me le ha messe da sole l'ordine così Ma allora vedi che Vabbè Abbiamo preso l'emblema Andiamo a vedere se lo dobbiamo mettere nella statua fuori Ciao zombie Adesso devo ricordarmi Dove è fuori Qua sotto mi sembra che era Sì mi sembra di sì Porca miseria non mi ricordo più Ce la posso fare ragazzi Che cacchio di memoria che ho Allora Sì era qua Sì era piano terra perché siamo usciti fuori Ma qua non c'era lo zombie che Mi aveva sfondato la porta Non mi ricordo più niente Ok Giusta la strada Ok Ok Ah abbiamo finito la demo Ripeto Non sembra male Devono sistemare tante cose Dal punto di vista insomma tecnico E tipo lo zombie che si impalla davanti a te Che ti guarda O vabbè io non dico che devono fare lo zombie Che ti sale le scale per carità Perché Basti vedere Resident Evil 2 C'è uno zombie cretino Che hanno fatto C'è uno zombie cretino Che Ehm Quando vai al primo piano Della stazione di polizia Lo fai tipo buttare dalla balconata E fai continuamente così Quindi Se neanche Oddio scusate Ho stuprato il microfono Quindi E dico se neanche A Capcom Che sono un casino di persone Sono riusciti a fixare comunque delle cose decenti Non è che mi aspetto chissà che cosa Però Ci sono dei piccoli accorgimenti Che devono sistemare Soprattutto spero che Metti Mettano il supporto per il Per il Pad E Che aggiungano comunque tipo dei file da leggere O che lei quando esami Che quando esaminiamo qualcosa insomma Venga fuori qualche pensiero E Tutte queste insomma robette così La possibilità di poter esaminare comunque gli oggetti nell'inventario E Una barra di salute perché non mi sembra di averla vista Tutte ste cosette così ecco E Per il momento Sembra promettere bene E Vi lascio come vi ho detto tutti i link in descrizione Per supportare Il Questo progetto E Ovviamente anche il link per il download Se lo volete provare voi di Sena Pianta Grazie mille per aver visto questo video Alla prossima Ciao a tutti